Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo giochino, oggi giochiamo con Among Us che è un giochino che sta spopolando su Twitch, infatti l'ho comprato proprio per portarlo in live su Twitch dove mi trovate tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 non ho mai giocato a sto giochino ma praticamente si svolge su una nave spaziale, ognuno ha il suo personaggio mentre altri devono preparare la nave al volo, altri dovranno sabotare e noi dovremo capire se non siamo l'impostore dobbiamo capire chi sia l'impostore, chi invece è l'impostore deve non farsi scoprire e vincere la partita è veramente fighissimo come preambolo, come si dice, come cosa allora, io vorrei giocare online, ho notato però un problema quando vado a cercare la partita sul server europeo, come potete vedere, non trovo la partita scrivetevi nei commenti se trovate una soluzione a questo problema vedete quello che mi dice ma se cambio server e vado ad esempio in Nord America e cerco la partita, me la trova tranquillamente troviamola, cerchiamola, cerchiamola, vedete, è difficile da trovare ok, ok, perfetto, ecco qua, siamo entrati, siamo entrati dentro alla lobby di gioco noi siamo dei, dei cosini, noi siamo dei cosini, vediamo che colore mi hanno dato oh, mi hanno dato il blu, guardate che carino, mi hanno dato il blu mi hanno dato il blu questa praticamente è la lobby del gioco, qui noi dobbiamo, dobbiamo aspettare che entrano gli altri abbiamo il ping un pochetto altino ma siamo in un server, in un server americano, nord americano quindi è abbastanza normale allora, qui possiamo addirittura configurare il nostro personaggio fighissimo, fighissimo, gli metto, gli metto l'elmo, 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 lo no, se vuoi vedere che ho messo, ho messo l'elmo dei romani, beh, semi italiani, qua, l'antica Roma ce la presenta, quindi sono io l'impostore sono io l'impostore sono io l'impostore subito, così, al primo colpa, alla mia prima partita, non so nemmeno non so nemmeno come si fa a fare l'impostore allora, io so qua io so qua e devo andare nei vari posti, senza farmi vedere ad esempio, qua dentro come ce vado? Io non mi devo far vedere da nessuno non mi devo far vedere da nessuno sabotage, sabotage sabotage ok, 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 via, 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 via non ci fanno vedere che ho sabotato non ci fanno vedere che ho sabotato, raga, non ci fanno vedere che ho sabotato nascondiamoci nascondiamoci, raga, ho sabotato, sicuramente mi beccheranno subito, eh mi beccheranno subito, so sicuro so strasicuro ma io devo uscire devo uscire da qua devo uscire da qua chi è che ha sabotato ok ho sabotato una cosa ho sabotato una cosa vediamo la mappa se mi porta a sabotare altro no devo tornare in su non ho capito mica se ho sabotato o se ho fatto qualcosa o se dovevo fare altro vediamo un attimino nelle armi la stanza delle armi la stanza delle armi qui c'è troppa gente mi sgamano subito mi sgamano subito raga mi sgamano subito allora sabotaggio I sabotate I sabotate ma mi hanno visto loro che io entro di qua quindi non posso sabotare qua se no dicono ah c'era lui lì invece io vado su Love Engine eh ma visto quello però ma visto quello però allora vediamo no mi hanno visto mi hanno visto in troppi mi hanno visto in troppi però aspetta aspetta però aspetta che forse c'ho qualcosa da sabotare qua no niente per forza devo andare di là a sabotare devo andare per forza di là a sabotare oh un meeting d'emergenza quando uno dà il meeting d'emergenza gli altri devono votare chi è l'impostore vedete c'è una chat dove si può scrivere questa ad esempio scrive che è successo perché avete convocato il meeting d'emergenza che questa diciamo è la votazione stanno votando stanno votando su chi è l'impostore io ad esempio voterò voterò questo io voterò anzi no come si fa a far skip 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 perché io non ho io non ho io non ho non ho elementi io non ho elementi per capire io non ho capito io non ho elementi ragazzi per dire chi ragazzi io non so chi possa essere l'impostore ok io skip io skip non ho abbastanza elementi uno però mi ha votato uno però mi ha votato attenzione uno mi ha votato il verde mi ha capito il verde mi ha capito non so come è potuto succedere ma il verde mi ha capito il verde mi ha capito il verde mi ha capito raga il verde mi ha capito ha capito che so io ha capito che so io non so come è possibile adesso vado a sabotare qualche altra cosa vediamo un po' il verde mi ha capito raga è la prima volta che ci gioco quindi non ho abbastanza non ho abbastanza cose per per capire ok qui devo sabotare questo mi ha capito questo mi ha capito questo mi ha capito sono sicuro che mi ha capito aspetta andiamo su bisogna stare attenti qua perché c'è gente che giustamente ci sa giocare e c'ha l'intelligenza di capire le tue mosse cioè come te comporti ad esempio io stavo davanti al pannello elettrico e non l'ho riparato quindi probabilmente 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 sono io l'impostore capito non avendolo non avendolo capito non avendolo sabotare ok vado a sabotare l'HO2 ok vado a sabotare l'ossigeno vediamo se c'è qualcuno in zona vediamo se c'è qualcuno in zona bisogna è importante non farse beccare è importante non farse beccare acqua che c'ho da sabotare che c'ho da sabotare dove sto ma perchè non mi va a sabotare di là uè tania come si chiama tania c'è anche il coso per uccide eh HO2 HO2 saboteici 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 m'hanno beccato m'hanno beccato m'hanno visto vedete come non si gioca vedete come non si gioca vedete come non si gioca te fai te fai beccà te fai beccà subito te fai beccà subito perchè devi controllare se c'è qualcuno vicino non puoi tu sabotare a caso così che c'è la gente che te vede che esci dalla stanza è difficile come gioco raga e guardate che chi che chi non lo non lo fa non ci gioca non può capire quanto è difficile è molto strategico non vi fate ingannata la grafica da dire una cacchiata perchè non è affatto vero che è una cacchiata non è affatto vero che è una cacchiata non è affatto vero che è una cacchiata sto sabotando che sto a fa mica capisco quello che sto a fa non ho capito quello che sto a fa prova sabotiamo questo non ho capito quello che sto a fa non ho capito quello che sto a fa devo riuscire a giocare però io raga, devo riuscire a giocare di più devo un attimo riuscire, adesso prova a uccidere qualcuno prova a uccidere qualcuno fatemi uccidere qualcuno allora, sabotage da sabotage qua, 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 sabotage ma perché il sabotaggio non me lo fa fa non me lo fa fa il sabotaggio non ho capito, vedete come se si deve ricaricare qualcosa ma non ho capito cosa non sto capendo non sto capendo raga a me servono i vostri i vostri consigli mi hanno beccato mi hanno beccato proprio raga, non so giocare non so giocare purtroppo non ci posso fare niente non so giocare devo un attimo capire come si sabotano le cose ma è meraviglio che ancora non mi abbiano non mi abbiano sgamato cioè come è possibile che non mi abbiano sgamato non ho capito cioè non so proprio non so proprio quello che sto facendo o mo prova a uccidere qualcuno raga raga non ci sta capi niente non so proprio niente ci sto a capire non ci sta a capire proprio niente raga quello che devo fa mi dispiace pure per quelli che stanno da un load data ah devo andare nella stanza della security andiamo in security ci sta a capire niente io boh ci sta a capire niente raga ma sai che vuol dire niente nella stanza elettrica ho ucciso uno ho ucciso uno raga ho ucciso uno ho ucciso uno raga ho ucciso uno ho ucciso uno ma non so mo quello che succederà non so quello che succederà qua non c'ho niente da ho ucciso uno raga non voglio non voglio cercare di essere troppo oh hanno riportato un corpo morto ecco hanno trovato il cadavere ovviamente chi viene ucciso non può votare ovviamente sennò sarebbe troppo facile non può né votare e né e né parlare né scrivere vediamo un po' che dicono vediamo un po' che dicono stanno votando il viola pure io ho votato il viola hanno scritto del viola quindi pure io voto il viola raga è bellissimo sto gioco è fantastico è fantastico il viola si è arrabbiato si è arrabbiato perché uno ha scritto che è stato il viola e il viola gli ha detto che stai è stupendo sto gioco è stupendo sto gioco tutti il viola hanno votato nessuno ha votato me nessuno sospetta di me hanno cacciato il viola nessuno sospetta di me hanno votato il viola nessuno il viola e l'arancione sospettano tutti del viola e dell'arancione sospettano tutti del viola e dell'arancione raga spettacolare spettacolare sospettano tutti del viola e dell'arancione quindi io non li devo uccide nel viola nell'arancione non devo uccide nel viola nell'arancione allora vediamo un po' uno intanto è uscito dal gioco il prossimo che trovo da solo raga lo faccio fuori lo faccio fuori devo andare nella stanza elettrica io comunque il prossimo che trovo da solo lo faccio fuori ho a posto anche il verde è stato decapitato da Robimello allora dead body reported vediamo un po' se mi sgamano raga sta a giocare proprio a caso sta a giocare proprio a caso vediamo un po' vediamo un po' chi è l'impostore vediamo che dicono io so che il blu mi ha ucciso io credo che sia il rosso dice l'arancione sicuro il blu allora mi hanno sgamato mi hanno sgamato mi hanno sgamato mi hanno sgamato anche perchè dovrei scrivere io dovrei confondere no dovrei di no è blu è blu cioè no è rosso è l'arancione mi hanno sgamato mi hanno sgamato mi hanno sgamato ho perso raga bellissimo bellissimo veramente bellissimo veramente questo gioco mi è piaciuto tanto certo bisogna avere una strategia bisogna cercare bisogna cercare di capire le tattiche bisogna cercare di capire bene le cose però è veramente un gioco che promette bene fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto amici miei insomma lasciate un bel like io ringrazio sempre gli amici abbonati che sono anima vita il cuore del canale consentono al canale di andare avanti e di sostenersi vi ricordo che c'è il mio link per twitch dove sono in live tutte le mattine alle ore 11 tutte le sere alle 20 e 30 mando tanti bacetti a tutti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao